Il Francavilla esce dal Bisceglia di Aversa con una sconfitta pesante che complica il cammino verso la salvezza. I sindici sono apparsi piuttosto giù di tono per oltre un'ora in cui sono andati sotto di due reti per poi reagire quando ormai era troppo tardi. La prima opportunità di marca ospite Malionetti non approfitta di un errore in disimpegno di Faiello calciando allato dal limite al quarto minuto. La replica del locale affidata a Faiella la cui acrobazia viene ribattuta dalla difesa. I Lucani si rivedono all'undicesimo con un colpo di tossati di ronza su corne di Nolè che impegna Papala parata a terra. Al ventitresimo altro squillo dei campani con un palo colpito dopo un colpo di testa deviato di Negro. La versa comincia a premere con insistenza e al trentunesimo colpisce un altro legno sul calcio d'angolo di Ziello. Poco dopo altro pericolo in aria rosso blu su corner dall'altro lato con la palla che sfila senza che nessuno intervenga. Ma il vantaggio nell'aria arriva al trentaquattresimo con una magistrale punizione di Ziello da quasi trenta metri. I normanni insistono e al trentottesimo Varchetta impatta il palo esterno su punizione dalla tre quarti del solito Ziello. Al quarantaduesimo si rivede un rosso blu con un destro in diagonale di Nolè che sfida al lato e si va all'intervallo. In avvio di ripresa buona trama dei sindici ma Nolè sciupa tutto con un cross sbagliato. Al quinto bel destro a giro ancora di Nolè ma Papa ci arriva con la punta delle dite e manda in angolo sugli sviluppi del quale lo stesso capitano in corna alto. I normanni si rendono pericolosi con una percussione di Faiella sulla sinistra che calcia alto. Ma gli uomini di De Stefano colpiscono nuovamente al dodicesimo quando Ndiaia si presenta tutto solo davanti al ciofariello che si oppone con un miracolo. Sugli sviluppi dell'azione la palla arriva a Faiella che da dentro l'aria la piazza sul palo lontano. I padroni di casa potrebbero anche calare il tris ma Messina non colpisce bene di testa. Al trentacinquesimo il match si riapre con un bel colpo di testa di Leonetti su angolo di Nolè. Al quarantesimo conclusione i centrali di Gallo. I Lucani premoni allo scadere e reclamano un penalti per un tocco di mani in aria ma l'arbitro sovvola. Nel finale Papa smanaccia su un cross dalla destra di Aleksic e il match si chiude con il successo dei Normanni.